Come comprimere un video? Lo vediamo in questo tutorial di oggi. È molto semplice, non è difficile, basta utilizzare le web. Quindi non bisogna andare per forza di cose a scaricare programmi, programmini o programmotti vari che vanno a, secondo me, riempire il vostro computer, ma basta semplicemente affidarsi a web, in particolare al sito clideo.com. Andate su clideo.com, www.clideo.com, a questo punto nella home page cliccate sulla dicitura Compress. Adesso ci sarà in basso un grande pulsante di forma rettangolare di colore azzurro con dentro scritto Scegli file. Un clic sulla frase Scegli file, cercherete all'interno del vostro computer il video o i video da comprimere, dopodiché li caricate. A procedimento completato, il sito in questione vi restituirà tre pulsanti, tre rettangoli. Voi dovete andare a cliccare il rettangolo di colore verde, che è quello che vi dà la possibilità di scaricare il video o i video che avete compresso. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, tutorial importante e nonché fondamentale per comprimere i video. Ciao da Leandro, il narratore italiano di YouTube Italia, e al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella per nuovi video, per non perderne nemmeno uno. Ciao!